E' di oltre il 55% nell'ultimo mese l'incremento dei nuovi casi di Covid in Europa, con i tassi di ricovero in ospedale più che raddoppiati in una settimana. Dati preoccupanti, segnala Hans Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'OMS. Se continua questa tendenza, sottolinea, secondo proiezioni attendibili, entro il 1 febbraio 2022 si potrebbero verificare un altro mezzo milione di decessi correlati al Covid. Le criticità maggiori si riscontrano in Russia, nei paesi dell'est e nell'area baltica, fino al Belgio e al Regno Unito. Peggiora anche l'Austria, che ieri, con oltre 6.500 infezioni su 9 milioni di abitanti, ha raggiunto il record dell'anno. Ci troviamo in un punto cruciale, avverte Kluge. L'Europa è tornata nuovamente all'epicentro della pandemia, come un anno fa. La recrudescenza del virus alarma anche l'Agenzia Europea del Farmaco. Siamo già nella quarta ondata e questo fa notare, a causa di due fattori, l'insufficiente copertura vaccinale e l'alentamento delle misure di sicurezza.